Fit check per il mio evento di Chiara Ferragni a Forte dei Marmi Chiara Ferragni Che è una toglia, ma ora devo rifarlo Fit check per il mio evento Chiara Ferragni a Forte dei Marmi È tutto Che è falsa, vabbè Scusate Fit check State zitti Fit check per il mio evento Chiara Ferragni a Forte dei Marmi È tutto Chiara Ferragni Abito Scarte Borsa E gioielli